Il testa a testa pronosticato sulle elezioni su scala regionale si è materializzato solo in provincia di Teramo. Qui il risultato elettorale è stato in controtendenza rispetto a quello abruzzese. Ha vinto Luciano D'Amico anche se di poco. Il candidato presidente del centro-sinistra ha preso 502 voti in più rispetto al governatore riconfermato del centro-destra Marco Marsiglio. Un dato che si è rispecchiato anche sul numero dei candidati consiglieri entrati in consiglio. Tre per il centro-destra Gatti, D'Annuntis e Di Matteo e quattro per il centro-sinistra Mariani, Pepe, Pavone e Cavallari. Per Sandro Mariani 7.532 voti presi rappresentano un record per il rinnovato consigliere regionale. Battaglia durissima con la mano in bocca perché ci ho creduto fino alla fine ma soprattutto sul profilo del candidato governatore ovvero il professore D'Amico. Io pensavo e penso che sia la figura migliore per immaginare un Abruzzo diverso. I cittadini hanno deciso, hanno riconfermato Marsiglio, vuol dire che le cose vanno bene così. È vero che a Teramo abbiamo vinto quindi questo da una parte mi fa capire che l'opposizione che ho fatto in questi anni ha dato i suoi frutti. Però va accettato il risponso democratico delle urne. Il riconfermato consigliere ha anche lanciato una frecciatina nei confronti del sindaco di Teramo, Gian Guido D'Alberto. Per quanto riguarda il sindaco penso che sia ora di cominciare ad amministrare la città quindi sicuramente lunedì ci metteremo tutti quanti insieme seduti per cercare di dare un passo diverso ad una città perché mi sembra che siamo abbastanza fermi. Quello che più secondo me la gente ci chiede è che l'amministrazione di Teramo cominci con il sindaco in primis a dettare l'agenda delle priorità e a realizzare gli obiettivi che c'eravamo prefissi.